La foresta nera, l'alta Baviera, Garmisch e le rive del lago di Koenig, momenti della 6 giorni motociclistica alla quale hanno partecipato 246 concorrenti di 12 nazioni. La foresta nera, l'alta Baviera, Garmisch e le rive del lago di Koenig. La foresta nera, l'alta Baviera, Garmisch e le rive del lago di Koenig.